Dov' andiamo? Dov' andiamo? No, io non si No, questa è la tua, la cazzo è andata Fatemi fare quello Due torsi, vado di qua Esamina... E non è tu Eh, Ria, spawn ogni tanto in gioco la mappa Eh, so, infatti, aspettare che arriva Quando ti senti un tizio urlare Di quanto la mappa dov'è Un tizio urla In giapponese Devo gridare in... Sì, intanto guarda la mappa Ma si vedono nella mappa Comunque delle segne nella mappa È tipo guarda la mappa e vedi il drop Dov'è? Sì, è tipo un drop Di quelli vecchi, non di quelli che cadono intanto Sperate che ce nemmo un po' vicino Sperate che ce nemmo un po' vicino In casa, lo riesco da Per ora Sperate che ci vuole un'arola Sperate che ci vuole un'arola Sperate che ci vuole un po' vicino 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 Ma... Ma poi li devi raccogliere anche questi Ce li raccoglie, queste cose qua Nell'ora del ghiaccio qua Mi si è scollegato il controllo Ma vabbè Hai capito le cose che ti ha detto? Eh no, perché mi si è scollegato il controllo Qua li fa sopra Eh quello quello Dove sei? Ah quello là, vedi? Oh ma che c***o Come ci permette sto bot? Come ci permette Cosa devo fare? Lo direi tu lo prende Beh, devi anche usarlo in realtà, è vero Deve usarlo cinque volte, mi sembra Ma c***o si permette quel bot li ho? ho fatto la valigia che posso vedere tutto il scudo qua E' un gioco di merda, no? Va, va, va... Va, va, va... Che si, no, no? Caras, tu, stronto E' pesa las que... Bravo, te te la voy Ha preso la cappa per favore per favore se ne ho capito la cosa qua me lo ho fatto di la terra non lo so.. non me lo prendi come loro erano me lo ho cattito di la terra fangona mica quanti tu sbarca puttana non lo vado a mettere il gear dove vi fate scaio scaffo addio eh oh merda è stata in figa ti ricordi? ti ricordi? ti ricordi i brutti? i robottori? ma tu dici quella che ci saliva in sopra in due eh si ti ricordi si mi ricordo quel pezzo mamma mia quando ce l'avevi tu mi riporti ma noi non riuscivamo mai io mi divertivo perchè con lo sniper c'erano gli adshot a chi lo pilotava scappavo mai dai andavo proprio incontri sentivo un brutto e diciamo ah si guarda adesso io l'avevo distruggere all'inizio dopo l'annuale all'inizio per gli studi si dovevi sparare un bordello eh si per gli studi si per gli studi ma troppo non ci sono eh poi ne vedo neanche uno troppo eh vabbè ormai ci pensa uno gli aerei sono belli raga per caso non ne ripetono più gli aerei mica ieri mica ieri e all'inizio di distruggire tutto eh vabbè non ci ho fatto caso è rimasto infine è rimasto una chance eh eh no chance eh no chance concedere due ore di tranquillità per favore figlio mio ora non ce la faccio due ore io ammazzo le cose qua eh non ci ho fatto non ci ho fatto non ci ho fatto è rimasto noi non ci ho fatto bene non ci ho fatto non ci ho fatto non ci ho fatto non ci ho fatto vabbè no vabbè vabbè ma no qualcuno ha colpi di assalto eeeh vai andiamo il drop è lì eh bu non so ci arriviamo lì ma voi c'avete il coso? oh c'è uno qua ma oh ma ma mi ha distrutto vedi eh ma è vero che è un bot questo guardate che mi ha così ucciso comunque non mi pongo più domanda mai lascerò tutti a piscina non mi ha colpito bene mi ha colpito eh mi ha lanciato l'anelle eh figia 16 no vabbè non vediamo adesso lo devo curare ah ci sono due sburtri vedi le fatele le fatele le fatele le ok ma vabbè non l'ho trovato ah no no ehm vai un'altra volta c'è un'altra la è tutto di schieno è rotta le palle te che lo stai portando? oh ma che uh c'è un po' proprio una bote ma oh ma ma c'è un po' proprio c'è un po' proprio ma è un po' proprio tu pensi proprio tu c'è un'altra è ah è un po' proprio ah è un po' proprio ah grazie Scusate che è un freddo che è un freddo vuoto ma forse era sbagliato ma perchè va a scatto il gioco ma c'è qualcosa che non va tutto stranadro si blocca cazzo oh no ma non vi sto mica dietro io eh eh via diciamo c'è un ritmo forse è andato se ragazzi mi cura tutto il tempo vai cazzo sto ad andare oh qua qua ma qualcuno ha usato ma di cosa qualcuno ha usato qualcosa eh ecco ho visto qualcosa infatti mi sembra di aver visto qualcuno eh qua 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 è qua qui c'è il razzo questo eccolo ma erano già più usciti ma c'è le meccanze ma è qua quello vai lia lia ma vuoi mori ragazzo ma è qua l'ultimo eh mi ha colpito perché l'ho bloccato scappando è scassissimo questo eh ma perché c'è uno c'è la mk vedi eh ah eh ecco perché come sono brava ah no eccolo qua mi ha veramente disintegrato il cervello cristo di mk eh vedo ma ci riattiamo eh ma il razzo l'avete preso voi ma il razzo di questi eh mi porto le sdurpine mentre vi sulle sdurpine ma sto giù la chakra non so se qualcuno vuole prendere ma è proprio sdurpine che f***a vabbè mi lascerei pure giù vabbè mi lascerei pure giù che è pigliato tu la cosa lì per la prossima andiamo sull'isola raga al volo? si adesso qua il rift è qua eh ok 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 a me pare dei mi era solo che si era una pequeña si era una pequeña no sta vedendo che non ci sia nisuno eh si? la partita eh perchè cos'è? anche le ribotte il viola papà papà abbiamo già ucciso 12 però eh non c'è nessuno io mi sposterei eh non vedo mica nessuno vediamo dove dobbiamo andare vabbè ve ne valli qua gente qua come fai vederli oh ecco l'ho visto qua qua tu non li vedi no eh no perchè non c'è nessuno per quello eccolo ma questo non è un bot no non è un bot cazzo no è quasi morto è quasi morto un colpo un colpo un colpo un colpo no si sta curando forse è qua dietro eh dietro la pietra dove sono io li ammazzola ammazzola ora che aveva il combattolo lo spasse il door maledetto mi ha colpito bene è morto diretto o no? no cos'è sta roba cosa succede? dov'è? 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 un cecchino dov'è? forse l'ho visto eh ma non sono sicuro lì è infatti qua dietro qua dietro eccolo madonna no ma sono ma sono nessun altro ancora pure dove va quello ma dove cazzo vai occhio no ma sei tu cazzo cazzo vedi il cecchino eh merda mettela ho detto viva 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 è morto ma se lo sto uccidendo ogni volta ma perché mi dici sempre così? basta ogni volta ma sempre così mi dici ma questo dia perché muore via ma che muore curala tu no ti ha l'ho ucciso non vedi c'ha 30 di vita ma si ma ti do la slurp ti do non ti do la slurp lì eh eh tranquillo chi è? eh sono io eh io l'ho finita adesso però eh eh non ne ho più adesso sembra che c'è un'opportunità di uccidere lo uccide no? si certo però ti incontro perché poi li fai scappare no? da solo dovevo stare a fiammi 10 secondi a solo capito ma lo stavo uccidendo eh ma c'era anche i cazzo mi stava sparando ho sempre il riale in qualche voce si si non lo so ti pare ho sempre una cura da prendere no dicevo in qualche parte aspetta forse qua vabbè ehm beh tu sei cap di dove che al massimo ve lo lancio no vabbè ma tanto no in particolare tiene lo comunque sembra essere utile comunque 8 8 8 passi qua eh non ci sono le sentinella eh ma non penso perché sono bot però eh comunque ovunque eh però vedi oh ma che che schicca minchia chi è? gimmick ma non penso sottile è un po' appare vado u vado non c'ho parole minchia vado 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 vado